Dall'eprote si nasce, figlio, non rifiutare il sostentamento al povero, non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi, non rattristare un affamato, non esasperare un uomo già in difficoltà, non turbare un cuore esasperato, non negare un dono al bisognoso, non respingere la sopplica di un povero, non distogliere lo sguardo dall'indigente, da chi richiede non distogliere lo sguardo, non offrire a nessuno l'occasione di maledirti, perché se uno ti maldice con amarezza, il suo creatore esaudirà la sua richiede, fatti amare dalla comunità, davanti a un grande abbassa il calo, forgi l'orecchio al polvo e rispondi gli al saluto con affabilità, strappalo presso dal potere dell'oppressore, non essere così l'anime quando giudichi, sii come un padre degli orfani e come un marito della loro madre, e sarai come un figlio dell'Altissimo, ed egli ti amerà più di tua madre. Siamo dato adorato e ringraziato ogni momento. il testo che abbiamo ascoltato, tratto dalla prima parte del quarto capitolo del libro del Siracide, ci istruisce, ci ammaestra, ci sprona, ci esalta, ci sensibilizza sul tema dell'attenzione alle varie situazioni di sofferenza e di indigenza corporale o spirituale, in cui progressare il nostro prossimo. è un tema importante perché fa parte del secondo grande comandamento, il secondo grande comandamento è certamente subordinato al primo, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo anche perché è il primo comandamento a dare il tono e il là al motivo per cui noi siamo contenti alla necessità degli ultimi, lo facciamo per amore di Dio, perché lui vuole che si abbia questa attenzione, perché Gesù ci ha ricordato che i poveri ci rilascia sempre con noi, perché abbiamo occasione di beneficarli e soprattutto perché riconosciamo in ogni essere umano, l'immagine, nella somiglianza di Dio, la sua presenza e particolarmente in tutte le situazioni di sofferenza, ricordando che Gesù ha preso su di sé tutti i dolori e tutti i mali presenti nel mondo ed è stato umiliato, ha disprezzato, ha vissuto come povero, quindi è importante che noi cristiani qualifichiamo sempre in senso soprannaturale la nostra comunque doverosa attenzione agli ultimi, i cosiddetti ultimi. Un'attenzione appunto che però ci deve essere la cui mancanza dà luogo a tanti peccati di omissione e come abbiamo ascoltato anche a delle conseguenze nefaste, negative. Quella che abbiamo ascoltato è parola di Dio, quindi la parola di Dio deve essere sempre lampa dei nostri passi, luce del nostro cammino e bussola della nostra vita. Non rifiutare il sostentamento al povero, non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi. La Chiesa ha sempre insegnato delle cose semplici e chiare nella sua cosiddetta dottrina sociale. Nel mondo certamente esistono i poveri e esistono i meno poveri. E il motivo è molto semplice, perché il Signore vuole che chi ha di più volontariamente, liberamente, si faccia carico di chi ha di meno, in modo tale che chi ha di più eserciti la carità e chi ha di meno eserciti l'umiltà e la gratitudine. Questo trovo detto in termini semplicissimi adatti a un contesto di meditazione come l'attuale, non catechetico. Il molto, l'abbondanza che noi abbiamo, insegna ancora la Chiesa, il Signore ce la dà perché sappiamo santamente amministrarla e anche qui entra in causa la nostra libertà. Perché la grande differenza che c'è tra la carità cristiana e l'esproprio proletario, sappiamo che aver avuto molto successo in tempi passati e in qualche circostanza anche in tempi presenti, è questo, che non ci sono forzature, però c'è la profonda responsabilità che noi abbiamo davanti a Dio dell'uso che noi facciamo dei beni di questo mondo. Bene di questo mondo che certamente dobbiamo considerare in parte, specialmente se sono eccedenti il nostro bisogno, come appartenenti ai poveri, evidentemente per aspettare la nostra libertà, accogliere queste esaltazioni e agire di conseguenza. Non si tratta soltanto di sfamare gli affamati, anche se dobbiamo farlo e oggi abbiamo dei mezzi abbastanza sicuri perché ci sono, se uno desidera, fare intelligentemente del bene, quindi non soltanto sovvenire con le nostre lemosine occasionali, il povero che incontriamo per strada, cosa comunque assai buona e lodevole, però ci sono delle intermediazioni molto attendibili, molto sicure che fanno tantissimo il bene del mondo, dove sappiamo insomma che certamente un'offerta fatta in quel modo giungerà a buon fine, veramente ci saranno degli affamati che saranno sfamati e dei poveri a cui sarà restituita una minima dignità essenziale per vivere, no? Non solo il pane e l'acqua manca un tetto, manca un minimo di istruzione. Questo è importante, c'è una sensibilità da avere anche verso le sofferenze spirituali del prossimo, non esasperare un uomo già in difficoltà. Quando vediamo una persona in qualunque tipo di difficoltà interiore, facciamo in modo di non metterci mai il cosiddetto carico da undici, perché non c'è soltanto dei da maggiorare gli affamati, delle opere di misericordia, ma anche consolare gli afflitti, non caricabili di altri pesi, no? Non turbare un cuore esasperato, ancora, no? L'attenzione che dobbiamo avere, purtroppo non sempre ricordiamo le nostre relazioni interpersonali e anche familiari. Un esempio proprio spicciolo, se un marito potrebbe tornare una moglie che sta già nera o viceversa, insomma, sarebbe bene non andare, essere capaci di comprendere e di farsi vicini, di farsi prossimi, di non turbare ulteriormente chi in quel momento ha bisogno di essere accolto, di essere compreso, a volte semplicemente di essere lasciato un po' in pace, ecco, per non avere l'animo ulteriormente aggravato. Sono cose a cui dobbiamo farci attenti, perché sono cose essenziali, costitutive della carità verso il prossimo. Non negare un dono bisognoso, se possiamo farlo, più diamo e meglio è. Da chi ti chiede non distogliere lo sguardo, qui c'è proprio un eco di quello che avrebbe detto Gesù nel Vangelo, no? Da a chiunque ti chiede. Se siamo nella possibilità di poter dare, diamo sempre. San Paolo scriveva chiaramente nelle sue lettere che per noi, figli di Dio, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, sapendo che più Dio non ci verrà a mancare mai assolutamente nulla. Questa è l'esperienza di tutti quanti i santi che hanno fatto queste cose anche a livello eroico, ovviamente togliendosi il cibo dalla bocca o i vestiti di dosso per sovvenire alle necessità di chi li capitava davanti, ecco. E di tutto sono morti tranne che di fame e di freddo. È piena la storia della Chiesa, di queste testimonianze. Ecco, poi quando ci sta qualche poveraccio che sta proprio esasperato, se gli distogliamo lo sguardo da lui, ci chiediamo dall'altra parte, questo ci manderà qualche accidente, detto proprio. E le parole che abbiamo ascoltato sono un po' preoccupanti, eh. non offrirà nessuno l'occasione di maledirti perché se uno ti maledisce con amarezza, il suo creatore esaltirà la sua preghiera. Dobbiamo fare attenzione a non dare occasione di maledirci. Dobbiamo ricordare queste parole perché in tante circostanze a volte capita, ne abbiamo esperienze a tutti, magari c'è qualche bisognoso, un po' inopportuno, un po' fastidioso, un po' troppo insistente. Ma se gli distogliamo lo sguardo, questo ci manda un accidente. E se ci manda un accidente, qui ci stanno scritte insomma delle cose che sono, a mio avviso, un pochino preoccupanti. Quindi è meglio ricordarle per evitare di trovarci nei guai. Fatti amare dalla comunità. Qui c'è una forte ispiratrice di un pensiero tipico di San Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco diceva sempre studia di farti amare. È meglio essere amati che temuti. fatti amare dalla comunità. Questo non vale soltanto per un prete che sta appunto al capo di una comunità, ma vale anche per ciascuno di noi la comunità. Si può anche intendere come il consorzio civile, come la comunità dei nostri familiari, dei nostri parenti. L'amabilità, quindi imparare uno stile che sia dinanzi al prossimo attraente, gentile, cortese, amabile, affabile. È certamente interpretare correttamente la volontà di Dio per quello che riguarda le nostre relazioni con il prossimo. E insieme a questo davanti a un grande dobbiamo abbassare il capo. Quando troviamo qualcuno veramente grande, e il grande non è chi è reputato tale, ma grande è chi è grande nella virtù. E quando troviamo qualcuno che è grande nella virtù noi dobbiamo riconoscerlo senza nessun timore. E dobbiamo tranquillamente dire questo è più bravo di me, questo è più santo di me, questo è più virtuoso di me. Io chino il capo dinanzi a lui, prendo esempio dalle sue azioni, dalle sue parole, dalle sue modi di agire, senza nessun tipo di sciocca, estolta, superbia, ecco, che si sente mortificata e cerca quindi di difendersi dal bene fatto dagli altri o di misconoscerlo peggio ancora. E rispondere al saluto del povero con affabilità. Anche quando salutiamo le persone, specialmente le più umili, le più piccole, c'è stato qualche santo che ha detto quando dai qualche centesimo remosina, fallo con un sorriso, insieme al centesimo a dirgli una parola, a dirgli Dio di benedica, a dirgli buona giornata, a dirgli qualche cosa di bello. Perché non è soltanto il gesto materiale, è anche quello che accompagna il gesto materiale nel sovvenire chi è in difficoltà. Ancora, strappa l'oppresso dal potere dell'oppressore. Queste sono, ecco, le opere fatte in difesa di chi è ingiustamente angariato e oppresso e ce ne vengono anche per i magistrati, non essere busi l'anime quando giudichi. I magistrati non devono avere nessun timore dei potenti, questo è il contesto chiaro del testo biblico, e se il potente c'ha torto e il povero c'ha ragione, non bisogna avere paura di dirlo e di emettere sentenze conseguenti. Sii come un padre per gli orfani e come un marito per la loro madre e sarai un figlio dell'Altissimo, no? Anche questa espressione, sarete figli dell'Altissimo, ci fa pensare dal Vangelo quando Gesù dice, amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e sarete figli dell'Altissimo. Ecco, i figli dell'Altissimo hanno in comune, cioè sappiamo che l'Altissimo largheggia, l'Altissimo non ha bisogno di nulla, la vita dell'Altissimo è semplicemente dare incessantemente, dare tutto a tutti e spesso senza che nessuno significa grazie. È molto bella questa immagine, è anche molto nobile di ciò che caratterizza lo stile dell'Altissimo e deve diventare un nostro stile. Le persone che assumono questo stile godono anche sempre di un grandissimo rispetto anche davanti agli uomini, perché questo stile necessariamente attira un rispetto riverenziale. Quando possiamo, diamo, senza guardare in faccia a nessuno, con gioia accompagnando il dare dal buon garbo e da tutto il resto. Il Signore ha dato una particolare sensibilità, come tutti sappiamo, a questi temi al Pontefice Regnante, che sicuramente lascia una testimonianza non indifferente su queste cose, che fanno parte del patrimonio, certamente, di vita di un cristiano e su cui bisogna farci sensibili. La vita cristiana, sappiamo, è molto ampia. Non ci sono soltanto questi temi, ma ci sono certamente anche questi temi che hanno una loro dignità e importanza e una rilevanza non indifferente, perché sono attuazione pratica, concreta, esistenziale, di quella grande carità di Dio che tutti abbiamo ricevuto e che dobbiamo imparare a donarci gli uni verso gli altri. Sia adorato, adorato e ringraziato ogni momento. Grazie. 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 Grazie.